Ciao a tutti, mi chiamo Crissa, sono uno dei tutor del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica. Insieme ad altri colleghi stiamo già svolgendo un'attività di ricevimento con i tutor rivolta alle matricole che dalla prossima settimana sarà esteso per l'orientamento delle future matricole e di tutti coloro che hanno curiosità sulle attività del Dipartimento. Oltre a questo, nel video di oggi vi ricordiamo che il martedì 11 luglio si terrà un open day del nostro Dipartimento per presentare l'offerta formativa nel prossimo anno accademico. In particolare, dal prossimo anno partirà il corso di laurea triennale in Ingegneria Biomedica, mentre il corso di laurea in Ingegneria Meccanica si arricchirà con un nuovo percorso in Ingegneria per le Tecnologie per il Mare, che si terrà presso il Polo di Ostia inaugurato da soli pochi mesi. Questi nuovi corsi si affiancheranno agli esistenti corsi di laurea triennale in Ingegneria Meccanica ed Elettronica. Quest'ultimo offre già da qualche anno un apprendistato di altra formazione e ricerca in collaborazione con Enel. Durante l'open day dell'11 luglio vi porteremo a conoscere, attraverso uno speciale percorso di visita nei laboratori, alcune delle nostre attività. Colgo l'occasione per fare migliori auguri a tutti gli studenti che in questi giorni stanno affrontando le prove di maturità. in bocca al lupo!